ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video dei grattevinci vi dico già che in questo mese ci sono già due video dei grattevinci perché ho preso un bel po di grattevinci però faccio primo un video e poi l'altro non li lascio insieme perché secondo me è più bello il primo video che questo è il 10 per e doppia sfida ho voluto prendere questi qua questo da 2 euro e anche questo da 2 euro per cui andiamo a grattare questi vi spoilerò l'altro video che poi uscirà che è di numeri fortunati colpo ricco che è la prima volta che lo compro e tutto per tutto ovviamente 55 3 euro ho speso 13 euro per questi tra però prima questo lo vedete nell'altro video e adesso noi grattiamo questi così vi spoilerò già vi spoilerò già qualcosina per cui comunque se non mi seguite su instagram andate su instagram che lì pubblico ovviamente prima di quelle grattevinci ho preso e se volete essere aggiornati detto questo se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi vi aspetto sia sul canale mi raccomando che su instagram possiamo iniziare buona visione allora iniziamo con 12 per i nostri numeri sono 30 33 28 e 42 vediamo se escono allora primo numero 23 non c'è 17 non ce l'abbiamo 14 neanche 18 neanche 15 29 38 35 abbiamo il 33 20 non ce l'abbiamo e l'ultimo il 34 ma abbiamo il 33 allora direi che questo è perdente volevo vedere i numeri cioè il prezzo sotto ma da quello che vedo sono quelli tranne 5 euro 2 euro ma tutto il resto sono prezzi abbastanza alti però diciamo che questo è perdente perché non abbiamo trovato neanche perché non abbiamo trovato neanche un numero andiamo con la doppia sfida vediamo se faccio un po di zoom ancora ok non lo so 28 48 42 23 e 35 non so perché sto non è fino a qui non mi fa grattare bene comunque questi sono i nostri numeri vediamo qui abbiamo 11 36 ma abbiamo il 35 34 e ma dai c'è che cavolo 19 comunque certe volte sembra che lo fanno apposta qui abbiamo il 40 niente c'è il 42 33 niente 27 ci abbiamo il 28 e per finire il 12 e per finire il 12 ovviamente comunque niente anche questo è perdente lui deve essere sempre in mezzo al video comunque anche qui vediamo io sono curiosa per sapere quanti quanto è il premio beh dai neanche tanto a parte i 100 mila diciamo che poteva andar bene invece questo biglietto è perdente allora già due video che i grattivinci sono perdenti però chi se ne frega l'importante è divertirsi e ovviamente giocare almeno io devo giocare voi dovete solo guardare il video e basta non dovete ovviamente comprare i grattivinci perché non va bene io faccio questo video perché piaccio a molte persone infatti ho tante visualizzazioni se no non le facevo e in più perché mi piace giocare ogni tanto li prendo cioè massimo come avete visto spendo poco per i grattivinci per cui questo è solo dai 18 anni in su però comunque massimo massimo 3 euro ci può stare oltre i 5 euro meglio di no perché non sempre si vince come avete visto però io lo faccio per ovviamente per per i video tutto qua ma di solito prendo ci gioco quei 2-3 euro e finisce lì non è che vado sempre a spendere soldi per questi grattivinci voglio solo dire questo perché ogni volta anche quelli che mi seguono veramente che poi seguono per modo di dire ogni tanto mi dicono eh ma fa male per i ragazzini comprare questi grattivinci infatti non ho detto che i ragazzi o quelli che guardano questo video o i miei video che faccio dei grattivinci devono per forza comprare i miei video sono solo di intrattenimento per far vedere alle persone di questi grattivinci e tantomeno come si gioca o il divertimento di guardare il video stop tutto lì non ha detto che dovete comprarli eccetera punto voglio chiudere questa cosa perché quando ho letto questo messaggio qui che non era sotto grattivinci ma era in un vlog ci sono rimasta proprio malissimo perché ho detto cioè non lo so io perché ogni volta le persone hanno sempre da dire cioè se non vi piace guardare questi video non guardateli o tantomeno non guardate neanche gli altri miei video che non sono grattivinci per cui non so che problemi avete o che problemi hanno le persone specialmente quelli che non mi seguono veramente sul mio canale e che non sono iscritti al mio canale e non sanno proprio niente di me non lo so ogni volta devo sempre ripetere sempre le stesse cose che palle basta cioè comunque vabbè prima che parlo troppo questi sono perdenti e ci giochiamo nel prossimo video perché so già ma non posso dirvi niente per cui quando uscirò l'altro video guardatelo perché ne vale la pena detto questo noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto ciao